Un giardino con una serie di alberi che riportano i nomi dei giusti, coloro che hanno salvato ebrei durante la Shoah, ma non solo loro, anche persone che nei loro paesi in epoche diverse sono state protagonisti di episodi di solidarietà, di episodi in cui la natura umana ha dato il meglio di sé. Tutto questo a Nichelino, tutto questo inaugurato in occasione della giornata della memoria, il 27 gennaio, con gli studenti di due scuole medie superiori nichelinesi, il Erasmo da Rotterdam e il Maxwell e dell'ENAIP di Nichelino. Le autorità presenti, la consigliera metropolitana Valentina Cera, che è delegata alle politiche giovanili, per sottolineare che la memoria di queste persone, di quello che hanno fatto, non si può perdere, che deve continuare tra le generazioni. Fanny Luhammer, fin da giovane, si interessa alla lotta per i diritti delle persone afroamericane. Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, Irena Sandler aveva 29 anni. Ebrin Kalaf è stata un'attivista che ha dedicato la vita alla lotta per la coesistenza pacifica fra kurdi. Valentina Cera, consigliera metropolitana delegata alle politiche giovanili. Questo esempio di Nichelino può fare scuola, nel senso che anche in tante altre città e paesi del nostro territorio può nascere un giardino dei giusti, per spiegare ai giovani cosa hanno fatto queste persone. Assolutamente sì, il giardino dei giusti e il messaggio che ci arriva dai giusti tra le nazioni è un esempio potentissimo per le nuove generazioni ed è spesso coincide, come qui a Nichelino, con una riqualificazione urbana. Noi abbiamo riqualificato questo parco pubblico piantando dei nuovi alberi e intitolandoli con un percorso di educazione dentro le scuole per i nostri ragazzi e le nostre ragazze sui giusti tra le nazioni. E questo esempio di Nichelino certamente io mi auguro che possa venire seguito da vari altri comuni della città metropolitana di Torino. Parlare di Chico Mendez, di Giorgio Perlasca, di Gino Bartali che salvò centinaia di ebrei ha commosso questi ragazzi, continuerà a commuoverli e soprattutto passerà un messaggio di solidarietà, di rispetto della vita umana. Sì, esatto, il messaggio potentissimo che queste figure che hanno agito per il bene nella loro, nella loro società e nel loro tempo che arriva ai nostri giovani è esattamente questo, le persone normali capaci di azioni straordinarie, capaci di azioni che dicono no, che si oppongono a quelle che sono le ingiustizie che presenti nelle nostre società. Alessandro Azzolina, assessore della città di Nichelino all'istruzione, che percorso stanno seguendo e proseguiranno questi ragazzi che abbiamo visto qua questa mattina. Questi ragazzi e ragazze sono principalmente delle scuole superiori della città e seguono un percorso che comincia oggi con un momento commemorativo, celebrativo, ma che vuole affermare un concetto semplice, ovvero che ogni giorno è il giorno della memoria. Se la storia ci deve insegnare qualcosa è che dobbiamo provare a farci forti della storia per sapere come agire nel presente, per provare a trasformare un pochino la nostra realtà e anche magari evitare che orrori che il passato ci ha consegnato non si ripetano più. Questi messaggi, questi personaggi che stanno imparando a conoscere, come dire, li trasmetteranno anche ai loro fratelli minori, alle loro famiglie, è importante questo? Lo sguardo dei ragazzi è fondamentale perché entrano immediatamente in empatia con le storie di chi ha vissuto, i testimoni diretti e quelli che non ci sono più e sono straordinari veicoli di coscienza, coscienza critica proprio all'interno delle proprie famiglie, della propria comunità scolastica e crediamo che possano essere degli attivatori di impegno anche all'interno della propria società, della propria città per agire tutti i giorni appunto il cambiamento che in qualche maniera vorremmo vedere nel mondo.